Quali sono? Fammi un esempio di sentimenti. Per te la parola sentimenti, cosa racchiude? Allora, sentimento per me racchiude un... Ma vai, vai! E' un'area, è un'area... E' del terreno! E' il panico più totale perché, ricordiamoci, è a due passi una gran minchia da unire. Ci ho appogato a sciogliere. Per essere nei miei occhi, quando non potrei vedere. Per essere nei miei occhi, quando non potrei respirare. Grazie per me amare. Grazie per me amare. Grazie. Per te l'amare. Oh! Guarda laannenza! Guarda le mie! Guarda la흘, guarda le mie! Guarda la sua, guarda le mie! Guarda le mie, guarda le mie! Grazie per la visione 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 Grazie per la visione